Dall'8 dicembre anche il rione Cicalesi di Nocearia Inferiore si illumina ma a partire da un concetto di ecosostenibilità. I giovani della zona infatti hanno realizzato addobbi e un mega albero di Natale riciclando i rifiuti. Quest'anno abbiamo pensato noi il gruppo amici di Cicalesi di fare un Natale un po' diverso, di utilizzare materiali riciclati come pneumatici e bottiglie per dare un messaggio rispetto all'ambiente che con i rifiuti si può creare e addobbare il nostro quartiere. Abbiamo rintaggiato alcune bottiglie e biccheri facendo dei funghi, dei bruchi e alcune strutture di alberi un po' piccoli. Che saranno sistemate su tutta la piazzetta? Sì, saranno sistemate su tutta la piazzetta Cicalesi. E' anche il momento che si affronta a livello nazionale, in questo momento di crisi, quindi con materiale riciclato si affrontano bellezze estetiche per un Natale a costi zero, quindi è una cosa importante, è un bel segnale. L'avvio di Ricicalesando, questo è il nome della lodevole iniziativa, è per l'8 dicembre. Luci accese e musica rock con i vicius dalle ore 20 e 30. Grazie. Grazie.